Quando una squadra italiana tornerà a vincere la Champions League? Dopo l'annata incredibile della scorsa stagione, le italiane quest'anno hanno ricevuto un ridimensionamento. Milan fuori giro, ogni e tutte le altre agli ottavi. Quella che tutti ci aspettavamo potesse arrivare più avanti è sicuramente l'Inter, perché con tutto rispetto la Lazio in un doppio confronto col Bayern difficilmente avrebbe potuto fare di più. Il Napoli immaginava potesse giocarsela, così è stato, ma alla fine niente. Il Milan agli ottavi neanche ci è arrivato e poi c'è l'Inter, che non ha fatto la solita partita al ritorno, mentre l'Atletico Madrid ha fatto sicuramente una partita ottima sotto ogni punto di vista. La differenza l'hanno fatta sicuramente gli episodi, perché l'Inter ha comunque avuto le sue occasioni senza mai sfruttarle, e poi anche i cambi hanno fatto la loro parte. Ma allora, quando un'italiana potrà vincere nuovamente la Champions League? Allora, in questo momento credo che a livello economico siamo indietro a praticamente tutti gli altri campionati europei. Poi non dimentichiamo che in una competizione del genere ci vuole fortuna. Mentre a livello di Rose penso che i nostri top club non abbiano nulla da invidiare agli altri. Perché ok, siamo magari indietro rispetto a City, Real, Bayern, Monaco, ma poi? Diamo sempre per scontato che siamo più scarse di qualsiasi squadra estera, però non credo sia davvero così. Quindi penso che per tornare a vincere la Champions basti... Oh no, non è vero.